si è caduto sui grassi qua vero questo è il secondo incidente che succede qua è il secondo l'ennesimo incidente ancora un video che mostra strade rese pericolose per la presenza di liquidi che invadono la carreggiata una situazione già segnalata dall'assessore alla nettezza urbana cinzia mirabella e dal consigliere delegato luigi mele che nasce dalle inadempienze della ditta abbiamo più volte segnalato spiega l'assessore che le operazioni di trasbordo continuano ad essere non a norma lasciando le zone interessate sporche e maleodoranti ma soprattutto pericolose per l'incolumità dei cittadini dalle segnalazioni dai video che riceviamo continuamente si evince che non ci sono norme di sicurezza e di igiene ma soprattutto nessuna precauzione per evitare che i liquidi invadano la carreggiata creando soprattutto sulla pavimentazione in basoli una superficie altamente scivolosa pericolosa soprattutto per i motoveicoli di qui la richiesta l'ufficio preposto al comandante dei vigili urbani di provvedere al controllo delle attività di trasbordo e alla sicurezza stradale in maniera giornaliera